eccoci di nuovo insieme in questo giorno in cui finalmente splende il sole e la nostra vita sembra che si riprenda anche più velocemente il santo di oggi è un santo che non conosciamo ma è una santa vicina a noi è o meglio non è ancora santa e beata maria gabriella sagheddu che è nata in sardegna nel 1914 in una famiglia di pastori e nonostante fosse una ragazza molto intelligente dovette rinunciare a tutti gli studi perché la sua mamma rimasta vedova doveva mantenere i fratelli e le sorelle a 18 anni però la sua vita una volta una svolta decisiva la scoperta del signore la trasforma portandola a dedicarsi interamente nella sua parrocchia alla preghiera alla catechesi e all'appostolato nelle file dell'azione cattolica mentre ad agio ad agio cresce in lei la vocazione alla vita monastica ecco in tutti i santi di questi giorni sentiamo questa vocazione che appare nel cuore delle persone a 21 anni entra nella trappa di grotta ferrata grotta ferrata è un paese molto bello vicino a roma io ho potuto visitarlo è una un paesino molto bello dove c'è una chiesa ortodossa con un'icona straordinaria e qui a grotta ferrata la sua vita diventa tutta dominata dall'amore verso dio la sua misericordia e la sua misericordia la chiama a un'appartenenza totale a lui e dal desiderio di rispondere pienamente a questa gioia straordinaria di aver incontrato il signore qui incontra l'abbadessa la madre pia scopre l'ecumenismo spirituale di paul couturier e se sente irrefrenabilmente spinta a lavorare ad offrire la sua vita e le sue sofferenze per la causa dell'unità dei cristiani a 23 anni suor maria gabriella così si è chiamata facendosi suora si ammala di tubercolosi e vive i restanti mesi della sua vita immersa nella preghiera di gesù per l'unità di tutti i credenti muore a soli 25 anni nella domenica dedicata al buon pastore di cui aveva raccolto con tutta la sua vita la promessa vi sarà un solo vile e un solo pastore la sua vicenda ebbe un impatto enorme sul nascente ecumenismo nella chiesa cattolica e non cessa di toccare il cuore dei credenti dei cristiani di tutte le confessioni maria gabriella è stata beatificata da giovanni paolo secondo nel 1983 ecco qual è l'esempio che possiamo cogliere da questa suora beata l'esempio è quello dell'apostolato nella catechesi nella preghiera e nell'azione cattolica i nostri vescovi continuano a dirci che per i laici la scuola per diventare adulti nella fede quella dell'azione cattolica e anche nelle nostre parrocchie ormai l'azione cattolica rischia di diventare una cosa di persone anziane perché i giovani non hanno più come una volta questo desiderio grande di buttarsi dentro dell'associazione di diventare dei testimoni autorevoli di gesù avvelate ce n'è qualcuno avvelate c'è qualcuno che proprio sta seguendo tutto il cammino dell'azione cattolica per diventare probabilmente anche degli educatori in gamba importanti allora dobbiamo pregare proprio perché questa l'azione cattolica non sia solo riservata alle persone anziane ma trovi fioritura tra i giovani proposte molto concrete qualche anno fa una volta ogni tanto si trovavano a ronco i giovani dell'azione cattolica per stare assieme almeno una sera e una notte a pregare a mangiare assieme a discutere assieme ecco preghiamo che davvero l'azione cattolica si diffonda ancora di più è la scuola per diventare adulti nella fede per i laici e io dicevo sempre quando ero in seminario per fare un prete ci vogliono 13 anni di seminario per fare un adulto cristiano non ci vogliono 13 anni anche perché con tutti gli anni di catechismo uno già ne fa tanti però qualche anno di catechesi seria qualche anno di impegno concreto qualche anno di donazione della propria vita agli altri nell'azione cattolica secondo me farebbe molto bene allora vi auguro una buona giornata ci vediamo probabilmente più tardi con un'altra parola di gesù in croce state bene e godiamoci tutti insieme il sole di questa mattina grazie 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 grazie